Sia water che attacco come si fa? Eh con A invece che con B Mi scollega il joycon a caso No vabbè io gioco col pad Vabbè Almeno è andato via Certo che la gente non gioca altro se non Greninja Ti prendo la giungla No Greninja per forza In lane ma Greninja Boh Che fa schifo Greninja Rompe le palle Ah vabbè Ammi due punti Bene 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 Sei e mezzo più o meno Andare nel bash Guarda quanto tempo Cioè che mi sei fottuto il buff Greninja guarda In culo proprio Come perdere la partita Porco due oma Che cazzo di problemi c'avete Pure quest'altro E vabbè allora Allora è un difetto di fabbrica Cazzo l'ha preso tutti di Pikachu C'ho io Io Ah cazzo c'ho 30 Niente 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 Cosa la fa Guarda quello Guarda quello Guarda quello Vado via Un attimo Lo startano immediatamente Porco due Non mi aveva attivato Quoterspout Dio mio Quando lagga Non lo prende Quando lagga Non lo prende Le avevo fatti tutti Me le ero fatti tutti Porco due In mezzo a cinque persone A volte Non prende i comandi Ma che cazzo di euro è questo Me lo polpetta Ma che cazzo fai Perché dovresti rubare La giungla Al tuo jungler Ho uno post Madonna Perché la gente Gli ruba la giungla In master Non è normale Non è normale Non è normale La cosa che mi dà più fastidio Che rubi la giungla Poi andai a morire 87 volte Mi frego un cazzo Ma rubare la giungla È intare Praticamente No sweats Mantra Vaffanculo Ma quello non è morto No, pensavo fosse morto No, ma si giocava a cazzo Cioè, mi tiltano Mi tiltano Io non ce la faccio giocare così Non ce la faccio giocare con la gente che mi ruba la giungla Che poi fossero stupidi Pure pure Non sapessero giocare Ma sei in master, come fai a non saper giocare? Come fai? Come fai中 Come fai中 Come fai fin Come fai中 Come fai中 abbiamo una huge lead ah comunque il problema dei moba in generale è che la gente crede di saper giocare sempre è sempre stato così ma tu devi ammettere qualsiasi rank qualsiasi rank anche il rank 1 fa cacare perché è solo perché al momento non c'è nessuno meglio di lui a fare quella roba ma comunque c'è sicuramente un modo migliore di fare quello che fa lui e metterglielo nel culo immagina tu che sei master 1350 punti infatti io lo dico io lo faccio cacare però ci si prova porca cazzozza eh vabbè spero che gli altri gli altri spero che gli altri quello non ha ultato neanche Pikachu non sta ultando la puoi usare sta ulti che dici? si andai in mezzo a morire a noi basta prendere tempo in realtà qua mi sono cagato sotto non ci arrivo mai la focus band la focus band la focus band mi ha salvato parca cazzozza vabbè che avremmo vinto lo stesso eh però si si Lucario ha detto 90 secondi steven che vabbè che avremmo vinto